Luca De Giambattista, coordinatore della Pulenta a Cavaglia con un gruppo di amici. Allora, siamo passati dall'organizzazione della PIP al Coro al Pestre e adesso un nuovo gruppo di amici che organizza questa festa. Esatto, nuove finalità, nuove persone a un'altra età, cercando di cambiare sui argotti. Ecco, un successo anche quest'anno, l'anno scorso è un nuovo record, quest'anno forse anche più persone. Sono molto molto di più da quello che abbiamo capito, dovremmo essere vicino ai 450 partecipanti. L'anno scorso erano sui 300, perciò il 30 è quello giusto. La Pulenta di Cavaglia vuole essere un momento di incontro tra i Pusciavini in Burgia, ma il nuovo spirito vuole essere anche un momento di incontro con la gente di Poschiavo. La gente ha reggito bene? La gente ha reggito bene, abbiamo invitato tutta la popolazione della valle a venire, perché ci sono invitati tutti ed è proprio l'incontro la parola chiave del tutto. Ne sono venuti, sono venuti diversi, speriamo che ne vengano ancora di più. Quali sono i vostri obiettivi andando avanti? L'obiettivo è avere il vero e proprio incontro, che il Pusciavino fuori valle e il Pusciavino in valle siano uno, veniamo dello stesso posto, ci piace lo stesso posto e possiamo approfittare l'uno dall'altro. Dialogando, parlando, conoscendosi ci si può aiutare a vicenda alla fine.